Robate qua! Non è che cose che si risolvono con tu schiaffumi, eh? Io c'ho paura, tu c'ho! Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Mai niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi. Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno, io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biascela, direttamente. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabola rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi. 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 Grazie a tutti.